Che cosa ha presentato e perché ha pensato a quella ricetta? Io ho presentato una ricetta, una bavarese di ciauscolo con una crema di patate, leggermente affumicata. L'idea era proprio quella di riprendere un pochettino i sapori della tradizione, che molto spesso nei malati di Parkinson tendono a dimenticare proprio perché spesso i piatti tradizionali sono o molto ricchi di proteine o hanno delle preparazioni particolari oppure proprio dal punto di vista della deglutizione sono difficili da mangiare per questi malati. La disfagia conosciuta in termini medico che viene a verificarsi intorno tra il 50 e il 60% dei pazienti dopo un certo numero di anni dall'esordio della malattia. Questo tipo di disturbo compromette in prima battuta anche l'assunzione di una corretta alimentazione e mette a rischio il paziente anche a complicanze di tipo infettivo perché esistono il passaggio praticamente di cibo dall'esofago nell'albero bronchiale o nella porzione diciamo di organismo dove si respira, cioè i bronchi, questo può comportare delle polmoniti e una complicanza e un rischio anche della vita del paziente. Non rinunciare al gusto del cibo ma cambiarne la consistenza perché sia sicuro e consapevole è la finalità del progetto a scuola di cucina con il Parkinson presentato oggi all'IRCA di Ancona in occasione della giornata nazionale del Parkinson con la partecipazione di Sara Corroni, campionessa mondiale di pasticceria e di Walter Borsini, chef, che si sono cimentati in uno show dimostrativo. Il progetto, nato dalla collaborazione tra IRCA, Istituto Alberghiero Einstein Nebbia di Loreto e l'associazione Parkinson Marche include un corso di cucina con quattro incontri a partire dal febbraio 2018 rivolto ad una ventina di persone anziane affette dal disturbo e ai loro familiari. Alla base è un progetto per spiegare e raccontare una malattia che coinvolge due marchigiani sul cento. La malattia di Parkinson è una malattia neurodegenerativa, la seconda patologia neurodegenerativa dopo la malattia di Alzheimer colpisce una percentuale abbastanza rilevante di pazienti oltre una certa età, oltre 65 anni, una percentuale che va intorno al 2% e successivamente con un incremento in pratica con l'avanzare dell'età. L'età è anche un fattore di rischio per lo sviluppo anche di altre forme di parkinsonismi che sono parkinsonismi associati ad esempio a disturbi vascolari cronici dell'encefalo. Diciamo che la malattia di per sé stesso è invece abbastanza tipica con un esordio intorno al 65esimo anno di età e con una sintomatologia che è una sintomatologia motoria e non motoria conosciuta prevalentemente da tutti come una sintomatologia motoria, cioè c'è un tremore al riposo, una bradicinesia, una rigidità che si complicano successivamente con una difficoltà all'equilibrio delle fasi in pratica più avanzate. Per una famiglia che cosa significa avere a che fare con un proprio familiare malato di parkinson? Parlo da figlia di parkinsoniana, è una rivoluzione, è una rivoluzione soprattutto per un motivo però, secondo me, secondo la mia esperienza personale e secondo l'esperienza che poi negli anni ho potuto fare in associazione. Non è conosciuta la patologia, quindi non appena avviene la diagnosi ci si trova di fronte a un mostro sconosciuto che invece può essere affrontato e anche in maniera buona, diciamo così. Per una famiglia è una rivoluzione perché comunque cambiano le dinamiche, perché purtroppo il malato ovviamente sarà carente in alcune situazioni in cui prima era autonomo e quindi tutti vengono coinvolti, cambiano un pochino le dinamiche, ma il malato parkinsoniano rimane la persona che era, semplicemente il suo corpo non è più quello di prima. E questa è una cosa che non viene spesso compresa, non esiste una cura e questo è vero, ma esiste la possibilità di condurre una vita di qualità. Tutto questo progetto parte intanto da un gruppo interdisciplinare, che cosa significa? Significa che è un gruppo, un'equip dove troviamo delle diverse professionalità che possono supportare il percorso diagnostico e terapeutico del paziente con Parkinson. Quindi ci sono diversi specialisti, quali per esempio? Specialisti medici, abbiamo i neurologi, nutrizionisti, medici della prevenzione, abbiamo anche altre figure professionali come la logopedista, la dietista e la psicologa che sono necessario al conseguimento degli obiettivi del nostro progetto. Il progetto rientra all'interno di una direttiva, di una più ampia direttiva ministeriale? Sì, in linea con il piano nazionale della cronicità, noi ci faremo carico del paziente all'interno del percorso diagnostico-terapeutico sotto molteplici aspetti. E visto che il paziente ha notevoli problematiche dal punto di vista nutrizionale, il corso scuola di cucina sicuramente darà ai pazienti e ai loro caregivers delle competenze. Andando nei dettagli, come funzionerà questo corso? Questo corso è previsto una giornata teorica dove verranno date tutte le informazioni sia dei concetti base sulla malattia che delle indicazioni dal punto di vista nutrizionale per prevenire la malnutrizione, per aiutare il paziente a modificare le consistenze dei scibi qualora ci sia la disfagia e per dare delle corrette informazioni per favorire l'assorbimento dei farmaci, in particolare la levodopa che è il farmaco principe del trattamento del parkinsoniano. Poi ci sarà una parte pratica con tre lezioni pratiche tenute da specialisti della ristorazione, dei professionisti, uno chef e una pasticcera. Il corso verrà svolto presso un'aula dedicata dell'Istituto Alberghiero di Loreto. Far conoscere ai pazienti delle problematiche alimentari della malattia stessa e in secondo luogo di richiedere un aiuto da parte di professionisti della capacità culinaria e cioè di chef, che sono gli chef titolati in questo senso, a modificare la consistenza dei cibi in modo opportuno per permettere una deglutizione corretta nel paziente che poi presenti eventualmente una disfagia neurogena, come si diceva precedentemente, che compare nelle fasi più avanzate della malattia. Che cosa dovrebbe fare secondo lei in questo caso chi si occupa di dolci ma anche uno chef per fare la differenza quando si interfaccia con un malato? Il nostro lavoro è vero far da mangiare per gli altri quindi diciamo così rendere felice il prossimo, no? Però bisogna assolutamente conoscere l'ingrediente, la materia prima è alla base di tutto quindi conoscendo l'ingrediente si sa poi come lavorarlo e come trattarlo e allo stesso tempo si può trasferire questo al malato che così riesce a capire cosa per sé è più adeguato e poi la possibilità appunto che ci viene data in questo confronto è proprio questo che c'è una sinergia di professionalità che oltre a lavorare per il malato stesso comunque arricchisce anche noi professionisti che ne siamo all'interno.